Salve, buonasera, ci troviamo a Salon, nel Museo dell'Archivio Audiovisivo Gardesano, dove c'erano gli studi della Onda Studios. Oggi, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, il museo è stato aperto al pubblico e siamo con Alessandro Zane, che è il figlio di Angio Zane, il famoso regista che anche nell'Alto Garda è molto conosciuto. Siamo veramente in un museo che parla un po' della storia del cinema e anche dei documenti che sono stati raccolti dal papà. Che ricordi ha di quel periodo? È stato un periodo, diciamo, variegato. Io ho iniziato come piccolo attore, almeno così era scritto anche sul libretto di lavoro con cui mi aveva regolarizzato coi tempi. E poi, strada facendo, sono passato dietro la macchina da ripresa come aiuto operatore in altri ruoli operativi in fase di ripresa. In questi studi, in questi luoghi, sono stati girati film, sono stati girati anche documentari e spot televisivi. Vogliamo ricordarne qualcuno? Sì, si va dal più famoso, che è il carosello con lo sceriffo della Valle d'Argento, quello per la Negroni. E qui all'esterno è stato fatto tutto un set cinematografico che simula il villaggio West. La vostra casa di produzione cinematografica è in qualche modo legata anche al Trentino e specialmente all'Alto Garda. È stato anche lei in quelle zone a girare film, documentari? Sì, la produzione di mio padre, sia a livello documentaristico sulle centrali idroelettriche trentine, sia a livello cinematografico con episodi dei film tipo Brigliadoro, sia anche in fase di caroselli, l'ambiente del Trentino è stato molto usato dalle parti di Drog, dalle parti di Nago, le famose Marocche e così via. Uno dei personaggi che nell'Alto Garda è molto conosciuto, che purtroppo è scomparso da poco, è Bruno Salvadori. Che ricordo ha del nostro Bruno? Allora, io ho scoperto successivamente il nome Bruno. Per noi era Beppi. E mio padre aveva collaborato con lui ancora negli anni 50 con le cinefarse che erano delle comiche e poi ha proseguito con i caroselli dello sceriffo in cui Beppi faceva, perché era il nome d'arte in quei caroselli, faceva la parte del vice sceriffo nei caroselli. Il museo viene aperto solo una volta all'anno? C'è l'idea di aprirlo anche più volte? C'è la possibilità di richiedere un'eventuale apertura? Allora, viene aperto a tutti e viene dedicata proprio una giornata in occasione di queste manifestazioni nazionali e poi è possibile fare visita per gruppi dietro appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.